Silvana Comaroli, c'è un emendamento della Liga Nord che ha suscitato l'interesse nazionale che riguarda non soltanto la Salerno-Reggio Calabria, di che cosa si tratta? Praticamente che noi chiediamo che mettano i pedaggi autostradali sul raccordo annulare di Roma e su tutte quelle strade a gestione ANAS che non hanno il pedaggio. Ma perché chiediamo questo? Non perché vogliamo accanerci, ma visto che al nord si paga, sulla tangenziale di Milano si paga il pedaggio, noi chiediamo semplicemente che anche gli altri facciano la stessa cosa. Perché i cittadini del nord devono pagare e quelle delle altre parti d'Italia, il guarda caso, soprattutto al sud, non pagano? Noi abbiamo semplicemente questo, questo. Oltre al fatto di basta soldi alla Salerno-Reggio Calabria, perché altri 350, quasi 350 milioni ancora alla Salerno-Reggio Calabria, dopo 20 anni, 30 anni che io sento di questi lavori non sono ancora finiti, ma probabilmente non li stanno usando bene. E che a casa mia, chiunque sa, cittadini del nord, se i soldi non sono gestiti bene non vengono più dati. Noi anche con questo chiediamo una semplicissima cosa, gestite male le risorse, che ricordo sono le risorse di tutti i cittadini, le gestite male, non ve le diamo più. Questi fondi, la Lega Nord chiederebbe che venissero utilizzati al nord, magari per una strada che interessa sul lago di Como? Ma sì, ce ne sono tantissime di strade che interessano al nord, basta vedere anche come sono messe, perché è soprattutto al nord che le strade vengono utilizzate e sono messe alcune volte non in buone condizioni. Noi è per questo che chiediamo che queste risorse siano spostate al nord, che almeno lì sappiamo che verranno utilizzate in modo corretto e nei giusti tempi soprattutto.